Recoaro, la tragedia si consuma in pochi drammatici istanti. Una ragazza di 27 anni precipita dal terrazzo al terzo piano della sua casa. Sono le 4 e mezza del mattino, sul posto accorrono i medici del 118 ma non c'è nulla da fare. Nonostante i disperati e ripetuti tentativi di rianimarla sul marciapiede sotto casa, la giovane, gravemente ferita, muore poco dopo all'ospedale di Valdagno. Dalle prime ricostruzioni, quello di questa mattina all'alba, potrebbe essere stato un incidente, una notizia che ha turbato tutto il paese.